La gara dell'Europa N2K è comunque sicurata, quattro anni si gara tagliata sei giri, anche qui a contatto di un solo giro erano sette in realtà, erano sette che si imprevisti inizialmente, e spero di aver raggiunto questo, con il video della classifica Pasek con il numero 23, il polacco Adrian Pasek che è seguito, ovviamente è la KPM che segue le varie, dunque 690, Pasek con il sito si importante, si è qualificato, questa è l'unica categoria che si è qualificata con una pista in condizioni non ideali, in particolare poi in giro l'ho avuto il turno di prove liberi, e sono stati, invece abbiamo anche i veloci, anche il gerardo 2 per 8.106, contro i 2.15, che Pasek ha fatto segnali, ieri e ieri, 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 Pasek è di scendere la fine gara degli rally europei, dove hanno indicato un pochino d'occhio, rispetto al supporto, per la gara cadastra, ci sono solo sei appuntamenti di questa regione dell'Europa N2K, non saranno presenti proprio in tutti gli appuntamenti, forse europei, la dimostrazione è di fatto che alla gara di Stiglione, ieri, 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 ieri. Il risultato è stato fatto la casa austriaca, la cattolica è 6,98 round europee non sono mai, quindi si inizia con il pass, poi per poi proseguire. abbracetto con quelle che sono le varie di varie secondi che sono il conto il conto il conto il conto padre il conto il numero 29 con parlato del neo-gelandese Jay Lewis Jay Lewis il conto Lewis 2 15 6 87 il conto il conto il conto Holland con due più la fine con la fine gara gara sgara gara sgara sgara il sgara 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 perché il volanzo avversale è stato proprio altro proprio del volo giustico oddio io ho avvisato il mio capo nel secondo posto il volo della tutta fine per il volo di Stanturo poi anche già con il volo 47 noi prendiamo il vero di Sarcella il volo di Sarcella 12 ore per il vero di Stanturo il volo di Sarcella è stato un volo di iniziato il volo di Stanturo il volo di Stanturo al suo fianco i suoi uccidi di Bicamico C e la fine per la forma si chiude la terza fila il volo di Stanturo 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 ma ma no con il Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.